Ciao a tutti ragazzi, sono Mattia Edo Remori e oggi sono qui per fare la Reaction ai film dei Pokémon, ovvero Mewtwo Stress Backs Evolution con il primo Mewtwo vs Mew del 1999 se non mi ricordo male. Ora vedremo le differenze e come si sono evoluti negli anni. Pronti? Io sì. Io sì, quindi via che vi sono meglio abbassare il volume, dovrei esserci, vero? Si ci siamo, lo vedete ragazzi? Lo vedete? Scusatemi eh, scusate ma 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 io voglio fare tutto alla perfezione, vediamo, wow ragazzi, vediamo, wow, cioè è una parola bellissima, guardate, guardate prima e dopo, cioè, no scusate prima e dopo, cioè ma non ho parole guardate, che bello, che bello, che bello, guardate quanto si sono evoluti, cioè è bellissimo, ma è già finito? no, 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 wow, wow, cioè ragazzi non ho parole, guardate questo qui è prima e questo qua e dopo, ho sbagliato prima comunque, beh, cioè ma dove? Cioè ragazzi non ho parole, ma ci vedete? Mi sposto da qua, qua, cioè, non avete visto? Che bello, è una forza, a me è mia o mio come volete, ok? E il team rocket, eh, ok, fermati, 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 ok, perfetto, diciamo ragazzi non avete visto, ma non ho parole, cioè io sono stato sbalordita per tutto il filmato, perché è veramente una cosa fantastica, voi che ne dite? È bellissimo, si sono evoluti veramente tanti in questi anni, adoro, non vedo da che esca, intanto trovate le reaction sul canale, se sono già uscite, se non sono già uscite, non lo so, vabbè, niente ragazzi, vi ringrazio per la visione di questo video, è piaciuto, commentate, iscrivetevi, mettete mi piace, io vi ringrazio per la visione, ciao!